Buongiorno a tutti, oggi preparo un primo piatto semplicissimo, spaghetti con pomodorini e la particolarità della burrata. Mi occorre 350 g di spaghetti, 600 g di pomodorini, prezzemolo, olio, sale e basilico quanto basta, uno spicchio d'aglio e burrata quanto basta. Inizio la preparazione, pulisco e taglio uno spicchio d'aglio e lo metto in padella. In padella metto l'olio, ora taglio il peperoncino e lo aggiungo. A questo punto inizio a tagliare i pomodorini. Tagliate i pomodorini, faccio soffriggere l'aglio con il peperoncino. A questo punto metti i pomodorini, metti il basilico, sale e faccio cuocere. Una volta cotti i pomodorini, cuocio la pasta. Quando bolle metto sale nell'acqua, metto la pasta. A questo punto tolgo la pasta. La metto nella padella a risottare. Una volta impiattata, mettiamo sopra la burrata e l'apriamo. Eccola pronta da gustare. Grazie della visione, alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.